Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei tempi del secondo no contact. Il secondo no contact è il no contact che si fa dopo che abbiamo fallito il primo perché per errore nostro abbiamo ricontattato l'altra persona. Succede molto spesso, succede molto più spesso di quanto previsto, di quanto pensiamo. Inizia a fare il no contact e poi cedi. E allora la persona ritorna, poi riprende esattamente la stessa situazione di prima o magari si allontana di nuovo e allora cosa fare? La soluzione è fare il secondo no contact. Ma quali sono i tempi di questo secondo no contact? Ne parlerò in questo video. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica di tutti i video e se vuoi delle risposte precise alle tue domande devi semplicemente abbonarti al canale. È una quota simbolica e riceverai tutte le risposte alle tue domande. e veniamo, le riceverai le risposte in live mirate solo per abbonati insomma dove soltanto tu che sei abbonato potrai scrivere le domande e io ti risponderò in diretta. E veniamo al tema, i tempi del secondo no contact. Allora, come ho detto prima, il secondo no contact è il no contact che si mette in atto quando il primo ha fallito. Quando noi abbiamo fatto un no contact, poi questo no contact non ha dato i risultati sperati perché l'abbiamo interrotto e allora dobbiamo riprendere da capo. Ora, che tempi ci devono essere in questo secondo no contact? Intanto devi tenere presente un fatto fondamentale che questo secondo no contact è una seconda possibilità ma non ci sarà una terza possibilità. Cioè se fallirai anche questo secondo no contact, mai dire mai, ma le probabilità di poter ottenere dei risultati, di poter ottenere dei benefici con il no contact si azzereranno praticamente. Ora, questo secondo no contact deve essere estremamente rigido. Estremamente rigido cosa vuol dire? Che, allora, quindi riprendo la situazione, è iniziato un no contact perché supponiamo lui ti ha lasciato. Dopodiché, magari lui il quindicesimo giorno si è fatto sentire, ti ha mandato un messaggio, tu hai accettato il ritorno, scudinzolando, e c'è stato questo riavvicinamento, lui è stato lì due o tre giorni, magari appena si è reso conto che tu comunque eri coinvolto o eri coinvolto, ti ha mollato di nuovo, ti ha lasciato e ti ha mollato di nuovo e si è allontanato. Questo è un esempio tipico, però potrebbero essere anche altre situazioni, ma sempre della stessa tipologia. Ora, quindi la domanda è appunto che tempi deve avere questo no contact? In questo caso questo secondo no contact che tu riprendi. Beh, intanto, prima di parlare di tempi, voglio parlare di modalità. Deve essere assolutamente rigida la modalità. Cioè, questa volta devi veramente dimenticarti di questa persona. Devi dimenticartene. Cioè, dedicare le tue energie a qualcun altro. A qualcun altro, a qualcun'altra situazione. Non c'è altra cosa che tu puoi fare. Devi iniziare a frequentare altre persone, devi iniziare a frequentare altre situazioni senza possibilità di sbagliare. Cioè, non ci devono essere terze possibilità. Cioè, questa volta devi fare le cose seriamente. Quindi devi iniziare a concentrarti su altro. Devi iniziare a concentrarti su altre persone, devi iniziare a concentrarti su altre situazioni. E questo lo potrai fare soltanto se veramente tu avrai voglia di distaccarti, avrai voglia di ottenere un beneficio. Devi immettere in circolo energia introiettante. Cioè, devi togliergli l'amore che gli hai dato. E l'unico modo per togliere l'amore che gli hai dato è non giustificare assolutamente il torto che ti ha fatto una seconda volta di averti preso in giro, di averti trattato male, di averti trattata male. Questo non devi giustificarlo. Devi dire, questa volta è un pezzo di merda, io mi allontano. Questa volta non ne voglio più sentire parlare di questa persona. Io mi allontano. Devi farlo, indubitamente. Cioè, devi tirare fuori, in questo caso, la rabbia e un'energia positiva per distaccarti, perché in realtà è rabbia che va a compensare questo amore inopportuno che gli hai dato. Quindi, il concetto di fondo è devi staccarti. Non devi più dedicare un pensiero. Ogni volta che ti viene un pensiero, date una mattelata sul dito, fai qualcosa, ma devi portare la tua mente altrove. È fondamentale questo. Devi portare la tua mente altrove. Soltanto se tu porti la tua mente altrove, riesci a ottenere dei risultati. Se non porti la tua mente altrove, non otterrai assolutamente nessun risultato. Quindi, deve essere fatto in modo rigido. Il che ovviamente vuol dire questa volta che assolutamente tu non devi guardare nessun profilo, nessun stato WhatsApp, niente di niente. Perché qualora tu guardi qualcosa, fallisce il no contact, fallisce. Questa persona non la reverrai più, non è più possibile poi reverla. Quindi, deve essere veramente una cosa estremamente rigida. I tuoi pensieri devono essere canalizzati, direzionati su altre situazioni, inesorabilmente, inevitabilmente. Quindi, la terza possibilità non verrà data. Allora, una volta che tu fai questo, e ti ricordo che devi farlo da subito questa volta, cioè, nel momento in cui tu, questa persona, si allontana per la seconda volta, non devi inseguirlo. Cioè, se ti metti a inseguire nuovamente, vai a generare un cataclisma di nuovo. Certo, poi puoi iniziare il no contact, ma comunque, anche se inseguissi, che sarebbe molto meglio non farlo, dopo che hai iniziato questo secondo no contact, devi essere rigido. Tieni presente che ogni errore che tu farai da questo punto di vista, sarà poi irrecuperabile. Vai, viaggi su un terreno minato, devi assolutamente stare attento a non centrare la mina, perché se centrerai la mina, non riuscirai più a venire fuori da questa mina. Sarà assolutamente possibile uscirne fuori. Quindi devi stare attento, o attenta. Per quanto tempo devi assolutamente evitare ogni messaggio? Sempre per 21 giorni, però non devi neanche guardare quello che ti scrive questa volta. Cioè, se lui o lei ti scrive, non devi neanche aprire i messaggi, non devi sapere cosa ha scritto, non devi bloccare né su WhatsApp né da un'altra parte, ma non devi proprio leggere i messaggi. Non devi sapere cosa ti scrive. Ti scrivesse anche che sta morendo in ospedale, non devi saperlo. Cioè, non devi fare nulla. Devi semplicemente ignorare completamente, totalmente. Per 21 giorni. Allora, come fare a sapere quale sono 21 giorni? Perché ti sei messo la sveglia. Cioè, ti sei messo un pro memoria dopo 21 giorni sul calendario che sono finiti i 21 giorni. Ora, da lì alla fine dei 21 giorni non cambia assolutamente niente. L'unica differenza qual è? Che passi, se ti scrivi dopo i 21 giorni, a leggere i messaggi. Passi a leggere i messaggi, non a scrivere i messaggi. Passi a leggere i messaggi. E, a seconda dei messaggi che manda, darei una risposta. Ma darei una risposta su dei messaggi, quindi per utilizzare un rinforzo operativo, un rinforzo, diciamo, operante, alla bandura, devi rispondere a solo quei messaggi in cui dimostra un palese interesse per te. Agli altri, i messaggi interlocutori, quelli come va, così, quelli neanche rispondi. Soltanto se ti dice mi manchi oppure mi fa piacere, mi farebbe piacere riparlare con te, rispondi. Rispondi con numero inferiore di righe parole che ti ha scritto lui. Con freddezza e, diciamo, dando per scontato che sarà difficile una qualsiasi ripresa. Però rispondi. Ok? Questo è il tipo, e qui, e poi vedi come si aggancia questa persona. Ovviamente, devi vederlo, tornare a vederlo, o vederla, diciamo così, solo se insiste, ma non prima che siano passati tre mesi, tre mesi totali. Quindi tre mesi e ventun giorni, devi aspettare ancora, insomma, due mesi, due mesi circa, insomma, due mesi e qualcosa. Dopo i tre mesi, dall'inizio del no contact, potrai tornare a vederlo, ma dovrai tornare a vederlo, o vederla, avendo messo dei solidi vincoli. Uno, che deve investire su di te, deve fare qualcosa, deve fare qualcosa, deve offrirti delle cose, deve calare degli assi pesanti sul piatto, se, per tornare a vederlo, se gli assi sono, magari ti interessava una convivenza, un fidanzamento, delle cose del tipo, progettiamo una convivenza, andiamo a, facciamo un'esperienza, ti presenti miei, deve calare qualcosa di pesante sul tavolo, solo allora accetterà di vederlo, altrimenti niente. Beh, già essere arrivati in questa condizione, comunque è un qualcosa di positivo. Se invece, entro tre mesi, diciamo, non si fa vivo, o non si fa viva, non si fa viva prima, non si fa viva dopo, in questi passati tre mesi, puoi tu, iniziare a vedere, se puoi mandare una richiesta, magari di contatto, deve essere, per tastare il potenziale, un messaggio, stile narcisista, diciamo, in cui non, non, non saluti, non fai, e rientri, chiedendo un favore. Ah, ciao, come stai? Senti, avrei bisogno di questo, puoi farmelo, per favore? In modo tale da andare a sondare il terreno. Sono rari i casi in cui in tre mesi non si faccia vivo, però, sono rari, e sono rarissimi i casi in cui se dopo tre mesi tu gli mandi una richiesta piccola, di questa cosa qua, non si aggancia. Quindi se tu arrivi ad attendere i tre mesi, vedrai che si aggancia tranquillamente. Magari non vorrà poi riprendere una relazione, dipende dalla situazione che ha, magari è una situazione con un'altra persona, eccetera, ma il reggancio avviene comunque. Poi da lì dovrai mettere in atto le varie strategie, ad esempio per entrare quando poi la nuova relazione, perché di solito non avviene un reggancio iniziale quando c'è una nuova relazione, quindi tu dovrai innestarti quando questa nuova relazione, prima o poi ce l'avrà, avrà un momento di decadenza, e allora sarà lì che dovrai entrare. Quindi poi l'abilità, perché chi non risponde perché ha una nuova relazione, sta nel osservare allora i post, le cose, o quando lui ti dirà, o lei ti dirà che questa relazione non va bene, allora prima amplifichi i turbamenti, resterai da solo, resterai da sola, certo che è brutto rimanere da solo, solitutto è una brutta bestia, gli amplificherai anche i turbamenti, e poi ti offrirai come soluzione. Però tutto questo, ripeto, devono essere passati almeno tre mesi, dall'inizio. Bene, spero di aver chiarito un po' i tempi del secondo no contact, iscriviti al canale attivando la campanella, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e se avrai bisogno, se hai bisogno di risposte precise alle tue domande, abbonati al canale, è una cifra simbolica, e risponderò alle tue domande in apposite live mirate. Ciao a tutti!